E qui viene questa preghiera che dobbiamo fare tutti i giorni. Signore, dammi la grazia di diventare un buon cristiano, una buona cristiana, perché io non me la faccio. Una prima lettura di questo spaventa. Ma se noi prendiamo il Vangelo e ne facciamo una seconda, una terza, una quarta, e nel capitolo sesto di San Luca, facciamolo. E chiediamo al Signore la grazia di capire cosa è essere cristiano e anche la grazia che Lui ci faccia a noi cristiani. Perché noi non possiamo farlo da soli.